Furto con destrezza alla sede delle poste di Camucia, ci troviamo in via Laurentana, questo non è l'unico ufficio postale della frazione del comune di Cortona. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, se ne sono poi accorti i dipendenti dell'ufficio postale. I malviventi sono riusciti ad entrare dal retro dell'edificio, raggiungere appunto poi l'ufficio, tagliare i cavi dell'allarme e si sono poi diretti verso la cassaforte, l'hanno quindi aperta e completamente svuotata. Il bottino infatti è ingente, 100.000 euro. I vicini di casa non avrebbero sentito nulla, a differenza invece di altre volte in cui è scattato l'allarme. No, no, io non ho sentito assolutamente niente, lo so da voi insomma, non è che... Io non sapevo assolutamente niente. Lei abita qui vicino? Qui sopra. Qui sopra. Quindi non ha sentito rumori, niente? No, 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 io, noi non si è sentito assolutamente niente. Cioè quel giorno non ero qui insomma, non ero nel paese. Un bottino ingente però. Sembrerebbe, 100.000 euro se non ho letto bene. Niente, troppo succedono queste cose. I ladri dunque sono riusciti, grazie al buio anche della notte, a scappare. Il furto è infatti successo nella notte tra venerdì e sabato mattina. Se ne sono poi accorti i dipendenti una volta entrati all'interno dell'ufficio postale, non ci sarebbero nemmeno le immagini delle telecamere di sorveglianza. Grazie. Grazie. Grazie.